Ho colto con piacere l'invito a venire qui a Coinee perché è una delle poche sedi in cui si riesce a discutere di temi un po' di fondo e non di cose spot, troppo tecniche oppure troppo condizionate dal contingente del momento. L'intervento di Morese, di apertura, mi ha confortato in questa consapevolezza. Io mi occupo di fisco, che è una cosa che ignoro di meno e quindi darò un contributo su questo fronte. E sottolineerei tre punti che credo ben si attagliano al tono e ai contenuti di questo convegno e della proposta di Coinee. Cioè vorrei andare a identificare, a ripensare due o tre punti un po' alla base dell'intervento del fisco e alla base di quello che possono essere i futuri interventi di modifica o riforma del fisco. Il primo punto, che è un punto diciamo culturale e forse ideologico addirittura, è qual è il ruolo del fisco dal punto di vista costituzionale, tra virgolette. Qui mi riferisco ai contributi secondo me importanti, dati di recente dal professor Gallo, su il ruolo del fisco. Di fronte a una posizione, diciamo, liberal-conservatrice, che vede il fisco come una lesione, tra virgolette, del diritto alla proprietà, che è il diritto innato della persona, da cui scaturisce poi tutto l'approccio che vuole ridurre al minimo il ruolo dello Stato, che vuole ridurre al minimo la tassazione, perché di per sé è cattiva in qualche modo, perché è una limitazione di una libertà fondamentale. Una visione liberale, invece, più progressista, vede il fisco come un modo di ripartire il carico fiscale di spese comuni, di produzioni di beni pubblici, che è assolutamente necessario produrre. Questa è un'impostazione di fondo che è molto importante dal punto di vista, anche poi, delle ricadute sulla concezione del ruolo costituzionale, della capacità contributiva, dell'applicazione dei principi costituzionali nella legislazione corrente e quindi ha poi delle ripercussioni su l'essenza del sistema tributario. Ma è importante soprattutto perché attribuisce allo Stato e al fisco un ruolo chiaramente redistributivo per la produzione di spese sociali e quindi anche per il finanziamento del welfare. Questo è abbastanza importante, credo, sottolinearlo come presupposto culturale ideologico. Il secondo punto che vorrei sottolineare è un modo di rapportarsi al fisco e al cambiamento del fisco. Come cambiare il fisco? Siamo continuamente martellati da proposte, idee, iniziative, alcune molto spot e limitate su aspetti specifici, altre più generali. Abbiamo avuto una esposizione, direi negli ultimi decenni, pressoché costante, all'idea di riforme fiscali incisive. E in fondo anche palingenetiche, perché molto spesso poi il contenuto concreto dell'iniziativa non era definito, però aveva sicuramente una valenza mediatica e forse più propriamente elettorale. La novità che abbiamo sotto gli occhi della delega fiscale, che è stata varata un anno fa e che adesso sta facendo il suo percorso in Parlamento, è che l'impostazione di fondo è completamente diversa. Ed è un'idea che viene dal contributo di Amartya Sen, premio Nobel per l'economia, il quale nel suo libro ultimo, l'idea di giustizia, dice beh, mi è molto difficile dire in astratto cosa è giusto. Ho difficoltà a definirlo io stesso, soprattutto ho difficoltà a trovare un consenso con gli altri. Mi è molto più facile partire dall'assetto concreto in cui siamo oggi e dire come potrei rendere questo mondo, questa società, più giusto. E mi è anche più facile, ragionando in questo modo, trovare il consenso con altri. Questa credo che sia una sorta di rivoluzione copernicana nell'approccio ai problemi e soprattutto in quello che diceva prima Morese. Dobbiamo trovare un modo per portare avanti delle riforme che siano ispirate alla partecipazione e alla stabilità. Quindi che trovino il consenso, che massimizzino il grado di consenso e di stabilità. Indipendentemente dai contenuti specifici di questa delega fiscale di oggi, che è proprio costruita in questo modo, partendo da una ricognizione dei problemi più urgenti, sentiti dalle parti sociali, in Parlamento, dall'opinione pubblica, e quindi il tentativo di dare una risposta, indipendentemente da questo, forse al di là dei contenuti specifici di questa delega e dei problemi specifici di questo momento, forse dovremmo cominciare a ragionare, parlo con chi sa di fisco, in modi diversi da come abbiamo ragionato finora. Noi siamo tutti figli della grande riforma degli anni 70, della riforma di Cosciani. Una riforma che veramente è stata palingenetica in un certo senso, perché ha toccato tutti gli aspetti del fisco, dalle dirette alle indirette, ha recepito l'IVA, ha abolito l'IGEL, ci siamo aggiornati sul fronte delle indirette per costruire il mercato unico. Sulle dirette abbiamo levato la ricchezza nobile, avevamo imposte reali, abbiamo fatto le imposte personali sulle persone fisiche e sulle società. Una di quelle riforme che si fa una volta al secolo, e sulla quale c'è stata una riflessione che è durata decenni, su quale potesse essere un modello ideale, efficiente, moderno di fiscalità. Ora, quel modello ormai è acquisito. In questo mi conforta l'opinione, per esempio, del professor Pedone, che è un vecchia guardia, anche lui, più di me, il quale sostiene che oggi, in realtà, non abbiamo bisogno di ripensare a fondo il sistema fiscale, dobbiamo fare degli aggiustamenti. Abbiamo un'imposta sulla società, un'imposta personale sul reddito e delle imposte indirette armonizzate. Questa è la struttura di fondo. Dobbiamo lavorare ad aggiustarla. È un ruolo importante, come accennava Morese, anche la riduzione, la lotta alle agevolazioni, ai trattamenti di favore, che è una lotta carsica, è una guerra di trincea che andrebbe combattuta nel continuo, perché le lobby sono sempre a lavoro come termiti per ottenere vantaggi settoriali. Però credo che se ragioniamo in termini di migliorare l'esistente e non di ragionare su proposte palingenetiche poi mai ben definite, praticamente irrealizzabili, forse facciamo un passo verso quel discorso di stabilità e di partecipazione a cui accennava Morese. Il terzo punto che volevo toccare, mi fermo se non voglio prendere troppo tempo, ma riguarda il rapporto tra fisco e welfare. C'è, come accennavo prima, nella impostazione liberale moderna, un ruolo del fisco come ripartizione del carico fiscale di spese di welfare, quindi un ruolo redistributivo importante. C'è anche in questo ovviamente da sottolineare la cresciuta importanza culturale di questa consapevolezza in un mondo nel quale, come diceva giustamente Morese, l'orientamento degli economisti sta cambiando, perché da un'idea, diciamo del secolo scorso, di qualche decennio fa, che l'accumulazione, la crescita, fosse in qualche modo inevitabilmente accompagnata a una concentrazione dei redditi e quindi a maggiore disuguaglianze. Adesso, per bocca di economisti più che qualificati e di istituzioni internazionali, ricordo i lavori della Banca Mondiale, l'opinione è che una distribuzione più equa è un fattore di sviluppo. Un maggiore sviluppo economico si accompagna anche a una distribuzione più equa e quindi qui il ruolo del fisco è importante. Vorrei accennare semplicemente al problema che a mio avviso e ancora forse se posso fare un accenno se vogliamo di critico al peraltro ottimo lavoro di Coinè forse stiamo ancora non riflettendo a sufficienza a mio avviso sul nesso che può esistere tra fisco e assistenza. Ragioniamo di reddito minimo di inserimento, ragioniamo su giuste considerazioni di Morese, ma non stiamo ancora facendo il passo di legare l'IRPEF, il fisco all'assistenza. Mi riferisco alle esperienze fatte in paesi come Francia, Regno Unito, Germania 10-15 anni fa di introduzione al cosiddetto workfare, questo è il termine bleriano, poi Jospen l'ha declinato in un altro modo, in Germania ha altre caratteristiche, il mondo anglosassone lo definisce Earned Income Tax Credit, cioè legare sostanzialmente le detrazioni a una serie di provvidenze che vengono erogate in spesa, creando un continuum per cui indennità di famiglia erogate o sotto forma di fisco o sotto forma di assistenza sociale, indennità di disoccupazione, di maternità, vengono coordinate tra loro in un continuum in cui il datore di lavoro è o erogatore di sussidio o a un certo punto superato una certa soglia inizia a prelevare l'imposta. Questo datore di lavoro privato se si tratta di lavoratori impiegati in maternità, in part time o in cassa integrazione o quello che sia, IMS, se si tratta di disoccupato o di altro. Questi sistemi sono sistemi che da un lato obbligano nella fruizione dei servizi a offrire lavoro come ricordava giustamente Morese con il reddito di inserimento. Dall'altro essendo coordinati tra loro evitano la formazione delle sacche di povertà perché e questo lo sappiamo da decenni in Italia ci sono dei momenti se non coordini bene le prestazioni di assistenza che sono sempre comunque parametrate a un valore reddituale se non le coordini bene col fisco accade che tu porti a casa un euro di lordo in più e ti trovi 100 euro in meno perché o ti è andata via la provvidenza o ti è saltata la detrazione io credo che riflettere un attimo su queste tematiche che poi fanno parte di un bagaglio storico sul quale in realtà forse siamo in ritardo almeno di un decennio potrebbe essere utile per migliorare le condizioni del mercato le condizioni di offerta le condizioni di partecipazione mi sono interrogato anche sui motivi di questo ritardo e forse i motivi di questo ritardo stanno dal punto di vista culturale in una ricerca dell'universalismo quello di cui sto parlando è limitato dal lavoro dipendente e qui mi fermo perché ho preso troppo tempo grazie a tutti grazie a tutti